Ehi, dottor Speranza? Sì, sono io, chi parla? Franco Paradiso, della... Tindano film. Mi dica. E ho fatto un film. Mettere insieme una truppa a mandarla in Armenia e ricevere un finanziamento europeo. La truppa? In Armenia abbiamo un'altra gente, non ti preoccupare. Metà del fondo viene erogato, tu torni in Italia e lasciati quei coglioni. Prima che ci beccano siamo già spariti tutti e due. Una banca incinta è uno scogliato. Cominciamo bene. Andiamo, va. Il lavoro che fai? La mignotta? Non c'è bisogno di dirlo agli altri. Io sono sicura che tu sarai una bravissima protagonista. Hotel Gagari, un ottimo ospizio. A me più che un gruppo di professionisti mi sembra una banda di disperati. Io faccio tutto quello che a me dici te, professionale. Vuoi che ti faccia un pompino? Non ho capito. C'è Gvera. Mi dispiace, Valeria, stavolta è andata così. Cazzo! Quel figlio della mignotta è scappato da voi soldi e ci ha lasciato qua. Venite. C'è una cosa che dovete vedere. È gente del villaggio. Dicono qui, si girano sogni. Le cose accadono da soli. Per magia. Due mesi e nessuno è venuto a prenderti. Su storia è lunga. Il cinema è la fabbrica dei sogni. Lei sogna molto. Molto. Oh, quel posto, eh? Vuoi rimanere, ma... Due mesi, come? Guai. No. Non. Due mesi, come? No. Vuoi rimanere. Grazie a tutti